Tecnologia multilaser esfoliante, idratante, rigenerante, tonificante, drenante, clinicamente testato, con testine intercambiabili di varie dimensioni, pulsanti e vibranti e punta riscaldata. La punta riscaldata amiche e anche le setole riscaldate ma che vi offre così tanto? Regolando l'intensità e la temperatura lo potete usare sul vostro viso o anche sul collo o intorno al seno ma anche sulla pancia o nell'interno coscia e via! Più caldo e più forte a piacere! Ah ma abbiamo una telefonata giusto? Ciao! Pronto! Ciao! Ciao Daniela sono Luciana, vi seguo sempre giorno, sera, notte... E sei contenta? Hai acquistato questo prodotto? Hai un'esperienza da raccontarci? Sì, perciò certo, io con lo stimolatore Reginson lo gioco benissimo e soprattutto questo fatto della punta riscaldata è maraviglia e lo uso sempre quando ti guardo Daniela. Oh Luciana, grazie così mi fai a rossire! No, no, perché è veramente buono e lo uso pure sulla mia cagnolina Mila. Siccome l'ho fatta sterilizzare, ecco, allora ci faccio la punta riscaldata che lei si un po' cura. Ah, beh, grazie Luciana, grazie di questa tua dimostrazione. Io sono Luciana, Luciana. Sì, Luciana, tanti saluti e tante carezze per la tua piccola Mila. A presto, Luciana, richiamaci! Sì, ciao. Ma passiamo adesso a presentare il prossimo prodotto, questo magnifico set manicure con depilatore anale sbiancante.